Grazie amici telespettatori e come ogni settimana per la vostra presenza a fatti e commenti e abbiamo come conconduttore il collega Gaetano Alaimo, direttore di Newtush Ben ritrovato Stefano, un saluto a tutti i telespettatori a casa Grazie a voi e oggi parleremo di agricoltura, un elemento importante, essenziale per la nostra provincia e lo faremo con Ermanno Mazzetti, direttore della Coldiretti di Viterbo Buonasera Grazie direttore per la sua presenza e salutiamo qui, cogliamo l'occasione anche per salutare il presidente della Coldiretti di Viterbo Mauro Facifici che è un impegno professionale e ha impedito di essere presente qui con noi Bene, iniziamo subito allora con Gaetano, la prima domanda a te Grazie Stefano, la prima domanda è quasi d'obbligo, sappiamo che uno dei settori più importanti a livello comunitario è proprio l'agricoltura con i piani quinquennali della politica agricola comunitaria Il piano è dal 2014 al 2020, tra cui rientra anche il piano di sviluppo regionale, quindi per la regione Lazio Il direttore se ci può sinteticamente spiegare quello che è la PAC e soprattutto il piano di sviluppo regionale inerentemente ovviamente alla provincia di Viterbo Sì, diceva bene, ci vedrà coinvolto il settore agricolo per il 2015 ormai perché il 2014 già è passato quindi il 2015-2020 riguarda tutto quello che arriverà in termini di finanziamenti diretti quindi di premi diretti alle imprese e di investimenti e di finanziamenti che riguardano gli investimenti, investimenti soprattutto per l'innovazione quindi la PAC o domanda unica sono i premi che arrivano direttamente all'impresa quella che ogni agricoltore ogni anno entro il 15 di maggio presenta la propria domanda e la comunità manda un importo sulla base dei titoli che quell'azienda aveva Il PSR invece fa riferimento agli investimenti e le misure che vengono messe in campo per gli investimenti che ogni azienda può fare investimenti che vanno dall'ammodernamento delle strutture al primo insediamento dei giovani al settore agrituristico, ci sono vari filieri che possono essere interessate proprio da questa cosa diciamo che complessivamente la somma che viene destinata sia per la domanda unica e per il PSR sono 52 miliardi, è una bella somma, è una somma consistente e qui sta proprio l'importanza anche dell'ente regione a far presto a fare i nuovi bandi e qui abbiamo già chiesto alla regione affinché si attivi, sappiamo benissimo che la regione Lazio ha presentato il piano di sviluppo rurale a Bruxelles per essere approvato crediamo che entro la primavera, entro l'estate ci sia già un pronunciamento serio quantomeno dal punto di vista dei nuovi bandi perché questo dà la possibilità alle imprese soprattutto alle imprese giovani di fare investimenti, dicevo il PSR riguarderà un filone importante che è il primo insediamento, il primo insediamento si intende dare la possibilità a giovani da 18 a 40 anni che vogliono inserirsi nel mondo agricolo nel mondo dell'agricoltura e fare impresa agricola, è prevista una bella somma perché sono circa 70 milioni di Euro come importo base più poi quello che è l'investimento diretto nell'azienda, quindi essendo una somma importante ci auguriamo che arrivi il prima possibile soprattutto che ci siano giovani che possano intraprendere proprio questa attività la domanda di premio unico entro il 15 di maggio del 2015 va presentata con la domanda unica entra a pieno regime la nuova riforma, la nuova riforma prevede questa nuova figura cosiddetta di agricoltore attivo dove col diretti su questo si è spesa molto perché poi la comunità ha lasciato spazio ad ogni Stato membro per dare e far interpretare a ogni Stato membro la figura dell'agricoltore attivo, per noi l'agricoltore attivo è colui che svolge attività agricola a titolo principale, quindi scritto presso l'Inps che ha una partita IVA agricola che è iscritto alla Camera di Commercio questo per noi è l'agricoltura attivo, è stata inserita una fascia, una blacklist cosiddetta quindi lista nera di soggetti che non prenderanno più i premi comunitari parliamo di società di assicurazione, banche, enti che non hanno niente a che fare con il mondo agricolo quindi escono di scena diversi soggetti che fino a ieri prendevano i premi comunitari anche perché essendoci stato già un taglio consistente a livello comunitario su quelli che sono i fondi è chiaro che si restringe sempre più la porta e se i soggetti erano gli stessi c'era il rischio che chi sopportava, chi rischiava di più erano proprio le imprese agricole, quindi su questo è stato fatto un buon lavoro quindi molti soggetti escono, chi rimane è veramente chi fa attività agricola a titolo principale Ecco, io adesso mi vorrei spostare su uno dei cavalli di battaglia della Coldiretti a livello nazionale ma anche a livello provinciale, vale a dire la tutela della produzione agricola la qualità dei prodotti che voi ponete in essere Ecco, ultimamente avete preso posizione di recente e ci sono appunto degli appuntamenti che sono stati convocati proprio per parlare dei crimini agroalimentari Ecco, qual è l'impegno della Coldiretti in questo senso per portare sulle tavole dei consumatori sempre l'ottima qualità dei prodotti? Sì, proprio stamattina, proprio quindi vengo da notizie, avere notizie fresche perché c'è stato questo terzo rapporto sui crimini agroalimentari presentato da Coldiretti e Eurispes e l'osservatorio sulla criminalità agroalimentare Coldiretti ha creato proprio una fondazione su questo il presidente di questa fondazione è uno dei maggiori esperti e procuratori più importanti d'Italia parliamo del procuratore Caselli, quindi questo ci dà anche l'importanza dell'organismo che è stato creato perché crediamo che all'interno della frode dell'agroalimentare, delle frode agroalimentari si perde una fetta importante dell'economia italiana pensate che questo gioco del furto del mani di Italy quindi del taroccamento delle produzioni italiane, Italian Sound dove c'è questo scopiazzare o addirittura proprio taroccare il prodotto e spacciarlo per l'italiano quando l'italiano non è, dal parmigiano all'olio d'oliva tutti i prodotti più importanti che caratterizzano la produzione agricola italiana costa qualcosa come 60 miliardi di euro 60 miliardi di euro sono due finanziarie a livello nazionale quindi immaginate voi che cosa può significare riappropriarci e soprattutto far sì che emerga tutto quel sommerso tutto quel taroccamento che c'è dei nostri prodotti Condiretti su questo ha fatto veramente un cavallo di battaglia perché noi crediamo che legare il territorio a un prodotto locale legare il territorio alla produzione ma la stessa impresa agricola che sta su quel territorio sia importante quindi non possiamo più nasconderci dietro a falsi nomi eccetera quest'anno per esempio c'è stato un problema serio sull'olio d'oliva c'è stata una produzione scarsa un po' dovuta a causi climatici a vari fattori che sono stati climatici anche dovuti alla mosca dell'olivo che ha caratterizzato un'infestazione quasi generale su tutto il territorio quindi c'è stato un calo enorme di produzione parliamo del 40-45% in meno di produzione quindi è consistente questo ha fatto sì che quindi si creasse un sistema di allarme perché c'era rischio che molto olio arrivava a olio che non era olio italiano perché quando succedono queste cose poi il mercato logicamente ha bisogno di soddisfare le richieste quindi ci può essere che arriva anche olio non italiano quindi su questo c'è stata la massima attenzione e devo dire che anche il Ministero dell'Agricoltura e Foreste su questo ci sta dando una mano con una legge specifica dell'etichettatura che è quella che noi abbiamo chiesto con forza perché vogliamo che il consumatore venga messo nelle condizioni di poter scegliere liberamente un prodotto rispetto a un altro ma soprattutto che conosca bene con che cosa è la materia prima con cui è prodotto quella confettura di marmellata quel formaggio se il latte è di quell'azienda agricola o di quel territorio e così via il vino, parliamo dell'olio quindi su questo veramente Coldiretti ha fatto ormai un lavoro continuo che poi lo vediamo settimanalmente con i nostri mercati di Campagna Amica ne parleremo poi grazie a te Gaedano un'altra grande, se non innovazione una prerogativa che è stata per prima di Coldiretti è stata la farmer market quindi una vendita diretta di prodotti direttamente al consumatore leggo che appunto è stata fatta una fondazione Campagna Amica che promuove appunto non solo la farmer market ma anche altri punti per la trasparenza e soprattutto per la spesa informata se ci può spiegare questo fatto sì, nel 2000 Coldiretti ha fatto questo patto con il consumatore cioè un'organizzazione di categoria che rappresenta un settore economico importante che rappresenta l'agricoltura però si è resa conto che il nostro migliore alleato poi è il consumatore perché io posso produrre il miglior prodotto di questo mondo ma poi se non riesco a venderlo e se non rendo appetibile a chi poi materialmente deve utilizzare quel prodotto e che è quello che lo acquista e quindi mi fa fare reddito all'impresa non ho fatto niente allora si è capovolta un po' la situazione e si è cercato di arrivare a fare questo accordo è stato chiamato, proprio sancito, un accordo ben preciso col consumatore dove il mondo della produzione si impegnava a fare determinate cose a rispettare determinate regole e il consumatore dall'altra parte però si impegnava ad acquistare prodotti direttamente dall'impresa agricola questo percorso è andato avanti per alcuni anni c'è stata una grossa battaglia per esempio con la raccolta delle firme di 1.300.000 firme per l'etichettatura obbligatoria proprio per quello che dicevo prima per rendere visibile e soprattutto far conoscere al consumatore quel prodotto dove è stato realizzato e confezionato e soprattutto che cosa c'era dentro quella confezione e poi siamo arrivati alla possibilità di aprire i nostri mercati di campagna mica legandoci anche a una legge nazionale che era uscita intanto c'era un decreto ministeriale che prevedeva la possibilità di aprire i cosiddetti farmer marks all'interno dei comuni lì c'è stato fatto un lavoro anche all'interno delle stesse amministrazioni comunali perché le amministrazioni comunali oggi se mettono a disposizione in un'area pubblica per un mercato devono destinare per esempio una percentuale di quella superficie specifica per la vendita diretta dei produttori agricoli questo prima non c'era quindi sono tutte cose che siamo riusciti a far passare anche con norme legislative e ci hanno portato oggi ad avere per esempio la presenza in determinati comuni italiani dei mercati di campagna mica dei famosi farmer market noi li chiamiamo di campagna mica perché logicamente abbiamo tutto quello che riguarda l'allestimento anche stesso del mercato dai gazebo alle scritte quindi si distingue brevissimamente dovendo fare dei numeri sulla provincia di Viterbo quante ce ne sono e quali sono i risultati? Oggi i numeri dei mercati sono circa 13 mercati presenti ce ne abbiamo due a Viterbo uno a Vetralla, Montefiascone, Tuscania in fase anche alternata soprattutto nel periodo estivo anche nella zona di Tarquinia soprattutto sul litorale perché anche a Tarquinia logicamente nel periodo estivo è più appetibile c'è anche più persone che stanno lì dal turista sia locale ma anche che viene da fuori quindi abbiamo fatto un accordo col comune per cercare di dare questo servizio alla stessa città di Tarquinia e adesso ne abbiamo un altro che è in funzione a Ronciglione e dovremmo verificare se c'è la possibilità di aprire qualcun altro ad acqua pendente cioè nei centri quelli un pochino più grandi almeno un mercato settimanale vogliamo farlo diciamo che quello che funziona per la maggiore quello dove c'è più affluenza dove c'è un certo numero consistente anche di operatori è quello che abbiamo a Viterbo ogni sabato quello è ormai diventato il mercato della città ogni sabato lì abbiamo una presenza diciamo numerica di circa 500-600 persenze di persone che viaggiano e vengono a visitare i nostri stand e questo è significativo è diventato come ripeto il mercato della città è chiaro nei paesi più piccoli nei centri più piccoli risentono numeri elevati di operatori non riusciamo a farli non solo a coinvolgere ma proprio non c'è anche redditività per gli stessi operatori le tre o quattro aziende vanno bene se portiamo dieci aziende a vetralla dieci aziende a ronciglione stentano un pochino e diventa un po' sofferenza Viterbo è un bel bacino di utenza quindi vogliamo mantenerlo lo stiamo potenziando ne abbiamo aperto anche il mercoledì quindi ci sono due appuntamenti il mercoledì e il sabato quello del mercoledì adesso c'è stata una breve parentesi con il fatto della pausa delle festività natalizi che ci hanno dovuto spostare all'interno di Piazza dell'Unità però la prossima settimana riprenderemo lo stesso luogo dove stavamo davanti alla chiesa degli Almadiani e quindi la risposta sulle città c'è stata è chiaro che oggi siamo pure in una situazione di crisi quindi se entra in crisi il settore della grande distribuzione poi a cascata ne risente anche anche il mercato perché comunque lo vediamo anche in termini di importo medio di spesa noi siamo scesi l'abbiamo visto perché poi facciamo anche delle indagini di mercato siamo passati da 20 euro che era la media a 25 dei primi anni eccetera oggi siamo scesi ai 5-10 euro di media di spesa perché ci rendiamo conto che la massaia che viene a fare anche la persona che viene ad acquistare non fa più la spesa così massale dove compra fa una spesa grande fa spesa limitata solo a quello che mi serve quindi mi serve la frutta prendo solo la frutta mi serve la verdura prendo solo la verdura e quindi logicamente l'abbiamo visto che questa questa crisi ha messo a rischio un po' tutti quanti ecco un altro capitolo importante che vorremmo trattare è quello dell'assegnazione delle terre pubbliche ai giovani c'è stata da parte della regione Lazio questa iniziativa una prima tranche di 140 ettari successivamente 200 ettari il significato è quello appunto che i giovani si avvicinino ma penso la vostra organizzazione già da tempo persegue questa questa iniziativa che sostanzialmente vuole difendere il consumo del suolo l'inquinamento e le speculazioni ecco come vede la vostra organizzazione questa assegnazione di suoli ai giovani ma questa questa pure è stata una battaglia che Coldiretti ha fatto negli anni da sempre noi dicevamo che parte per esempio dei terreni del demanio pubblico che stanno lì fermi eccetera devono essere messe di nuovo in gioco e soprattutto dare la possibilità a giovani di poter arrivare a utilizzare il terreno è chiaro che un giovane che vuole fare impresa agricola ha bisogno della materia prima la materia prima è il terreno non è che l'attività agricola la possiamo fare dentro una struttura chiusa organizzata un capannone se ha bisogno del terreno e sappiamo pure quello che significa oggi acquistare un'azienda direttamente da un giovane accedere al credito quindi avevamo chiesto allo Stato al Ministero che si faceva parte attiva nel poter dare proprio assegnare terreni con bandi pubblici ai giovani in Campolibro il decreto Campolibro c'è questa nuova possibilità ma soprattutto anche la regione in questo si è attivato perché la regione Lazio devo dire che ha preso accolto a pieno questa cosa facendo già due assegnazioni una assegnazione riguarda anche il territorio di Viterbo tra l'altro la zona di Proceno proprio ieri lunedì c'è stato un incontro alla FAO dove hanno assegnato il secondo lotto di terreni con la firma del Presidente Zingaretti quindi ci auguriamo che questa cosa venga estesa pensiamo a tutti i terreni che per esempio sono stati sottratti anche alle mafie Nebici e quella là quindi sono tutti i terreni che possono essere messi in gioco dati soprattutto a giovani che hanno bisogno e hanno volontà di fare impresa agricola a cooperative perché non parliamo solo di imprese singole ma anche di cooperative magari che si organizzano di giovani che si organizzano oggi ci sono nuove formule come i contratti di rete che stanno venendo avanti che possono essere presi costituire un contratto di rete tra soggetti diversi mantenendo la propria autonomia anche gestionale però io posso per raggiungere un obiettivo ben preciso voglio produrre formaggio magari io come singola azienda non riesco a farlo perché ha un costo maggiore metto insieme più soggetti mantenendo ognuno la propria autonomia possa arrivare ad obiettivo finale quello di arrivare sul mercato col prodotto formaggio col prodotto qualsiasi tipo di prodotto oggi quello che conta è avere l'idea imprenditoriale e vediamo che anche qua molti giovani ce l'hanno noi speriamo che il futuro dell'agricoltura non speriamo è proprio che il futuro dell'agricoltura ormai sono i giovani e quindi speriamo in loro anche nel nuovo PSR come dicevo prima che possano veramente intraprendere perché abbiamo bisogno anche noi come ricambio generazionale di averci giovani perché se no l'agricoltura muore veramente ecco una battuta brevissima siamo in conclusione sulla partecipazione a Expo 2015 a Milano sì Coldiretti sarà presente a Expo 2015 perché credo che un'organizzazione importante come Coldiretti un'organizzazione che rappresenta interessi economici nel settore agricolo dove si parla di cibo e di agroalimentare non può che non essere presente saremo presenti direttamente come organizzazione saranno presente anche imprese agricole progetti che sono stati fatti quindi portate l'attenzione verranno fatti conoscere quello che si sta facendo nel settore agroalimentare ci sarà una bella cosa adesso ancora non lo diciamo qualche giorno credo che poi verrà pubblicizzata di questo Termina del Gusto che viene realizzato a Civitavecchia dove si vedono coinvolte molte aziende agricole e saremo presenti anche lì a Expo 2015 quindi la Regione Lazio ha fatto dei bandi proprio su questo ci sono diversi progetti noi abbiamo partecipato come col direttivo di Viterbo al progetto relativo al comune di Viterbo proprio con la macchina di Santa Rosa e altre cose poi con la comunità montana di Acquapendente e poi abbiamo partecipato anche a un piccolo progetto di un'azienda agroalimentare che si chiama Treno Verde vediamo di questi progetti quelli che andranno a buon fine perché poi alla fine ci rendiamo conto che non tutti riusciranno ad essere diciamo accettati e quindi riconosciuti però senz'altro come col diretti nazionale ma anche locale saremo presenti a Expo 2015 bene ecco con questa prospettiva noi ringraziamo il direttore di col diretti di Viterbo Ermanno Mazzetti gli auguriamo buon lavoro Gaetano credo che penso che abbiamo esaurito tutti i temi ci sarà modo prossimamente magari di approfondirli con un'altra intervista se vuole grazie grazie saremo qua col presidente provinciale come ripeto si scusa perché impegnato veramente nella propria azienda agricola quindi saremo presenti volentieri insieme grazie e grazie agli spettatori buona serata grazie 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 grazie